Il tempo scorre, ma con il retrocomputing scriviamo il futuro con l'inchiostro e il passato. Bene, dopo un mese e mezzo o due in cui non vedete più video nuovi sul mio canale, pausa estiva, consentitemelo, questo era l'ultimo. Oggi parliamo in due minuti di... Che bello, Retrocomputing Nordesque parla di retrocomputing. Che caso! Anzi, di retrocomputer. Beh, questa è la quarta recensione che faccio sulla rivista, perché questa, come si dice, non c'è due senza tre, il quattro vende a sé, questo è il quarto numero, ovvero il numero tre, che però ha aggiunto il numero pilota iniziale, quest'anno sono stati pubblicati già quattro numeri, cioè uno era la fine del 2023, fine dicembre, e poi ogni due mesi questo. Il prossimo uscirà a settembre. Allora, mettono le altre volte in tre giorni l'ho preso e l'ho divorato, e l'ho veramente letto proprio in real time. Questa volta, causa, se volete causa, per fortuna, con le ferie me lo sono voluto con più calma, e in realtà non l'ho letto molto velocemente, quello l'ho preso ormai due settimane fa. Però, me lo sono letto e gustato decisamente forse anche meglio delle altre volte. Cosa posso dire? Beh, sapete già, allora, nel primo ho fatto i complimenti a chi ha avuto l'iniziativa e a chi gli ha dato fiducia, quindi la spray editori, questo è nel numero pilota. Poi ho parlato di sex, droga e rock'n'roll, sesso perché c'era un articolo sui programmi erotici degli anni 80, a 8-bit. Poi droga perché il retrocomputer è la nostra droga, e rock'n'roll perché appunto come rock'n'roll negli anni 50 aveva rivoluzionato un po' la musica, questa è la rivista che fa un po' una rivoluzione su quello che è appunto il nostro ambito. Quindi abbandona i computer moderni e si dedica al mondo passato. Poi nel numero successivo, il 2 che però era il terzo, ho parlato di il giro del mondo in 115 pagine. California, Italia, Olivetti, Mezzobondo avevano girato in questa rivista. Cosa dire di questa? Di questa, allora, ci sono veramente argomenti decisamente troppo interessanti, che ovviamente uno deve leggerli, quindi io non posso raccontarveli, è giusto che andiate in edicola o andate su Amazon a comprarvela. Però posso solo dirvi che ci sono spunti decisamente importanti. Uno, l'arrivo di Nishi in Italia, appuntamento da non perdere, assolutamente al 16 novembre a Pisa, importantissimo. Poi, parlando sempre di personaggi, c'è la terza missiva puntata del nostro mitico Sinclair, bravissimi, chi ha seguito gli altri due numeri lo sa. Poi ci sono due interessanti articoli sui portatili, Apple, mondo Apple e mondo IBM, quindi due, diciamo, macro brand, diciamo tra i più famosi. Stupendo. Poi c'è la storia della Sharp, poi c'è la storia dell'Olivetti PC1, quindi su questo numero, per esempio, io che sono innamorato di Olivetti PC1 e di tutti i Mac, c'è proprio ciò, sguazzato. E poi c'è veramente tantissime tante altre cose, che vi faccio vedere così velocemente, ma soprattutto anche dietro, perché tra gli N articoli ce n'è uno interessantissimo sulla Simulmondo. Allora, chi ha vissuto, diciamo, gli anni 80 e iniziano i 90 sa benissimo come venivano distribuiti i videogiochi una volta. Ecco, qui se ne racconta la storia, quindi vi consiglio solo di andarlo a leggere, ma poi si parla di musei, si parla di siti, di canali YouTube, si parla di... visto che era sex, roga and rock'n'roll, si parla di hippie e così via. Bene, ragazzi, basta. Altro non vi dico, perché è giusto che alziate... sedere, si può dire? Ma insomma, che andate a prenderla? A posto. Ci vediamo a settembre, dove ricominciare a fare video sul canale, ammetto che da giugno, quando ho pubblicato il 133esimo, io non ho fatto più niente, quindi attualmente non ho nessun video da pubblicare a settembre. E siccome io sono da tre anni, che faccio ogni giovedì sera alle 20 un video, sono un po' impanicato, ma adesso sono anche in ferie, quindi ammetto, non lo so. Mi sono preso un po' di pausa, ma insomma, penso che dopo tre anni di... devo essere sincero, un po' duro lavoro, perché presentare un video a settimana non è proprio semplice, forse me lo meritavo e quindi mi sono preso, anche perché è una passione, non un lavoro. Quindi mi sono preso questi tre mesi sabbatici, però devo iniziare a darmi da fare. Ho lì un plus 4 che mi sta attendendo, di là ho ancora il compact portable 2, laggiù, che mi sta aspettando di essere riparato, e poi tante tante altre cose. Farò, farò, devo farlo. Ciao, andate in edicola! Ah, e grazie agli autori, grandiosi, grandiosi. Ciao. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Retro Computing Nord-Est. Premete sul simbolo della campanella per essere sempre aggiornati. E se vi è piaciuto, selezionate un bel mi piace. Grazie a tutti.